Ciao a tutti, rieccoci in Cascina Rocafranca, sempre qui da Cascina Rocafranca, sempre su Mercury Comics, sempre sull'ordine impronta digitale e ovviamente siamo a Mercury Comics e si parla di fumetti, quindi che fumetti andiamo a trattare? Restiamo su Bao, eravamo rimasti tutti estremamente colpiti da Descender e adesso abbiamo iniziato a leggere Ascender. Potrei risparmiarla ma non lo faccio, c'è gente in giro che dice che la qualità va a Ascender. Ma in realtà io non ho trovato questo difetto che è stato citato in rete, nel senso che la qualità grafica secondo me è rimasta. La qualità della storia ovviamente è influenzata da alcuni fattori. Prima che lui vi dica i fattori io vi dico che vedete queste cose che stanno passando qua sotto, quelle di YouTube, fatti specie queste qua, ecco queste qua che stanno passando piano 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 piano, sono illegibili. No che bravo, stai puntando. Andate su YouTube e cliccate su iscriviti, così magari quello schifo che vediamo qua non si vede più, ok? Grazie. Ma vedrete scritto YouTube slash radio in fronte digitale o Mercury Comics o Frequenza Ludica. Esattamente. E quindi iscrivetevi ai nostri canali. Stavamo dicendo. Non mi hai fatto perdere il filo. Stai contento? Degli elementi positivi e negativi di Ascender. Allora no, dicevo, la qualità grafica secondo me è rimasta tale quale. Per quanto riguarda la storia, alcuni dicono manca un po' di contenuto la storia, la scenografia, la sceneggiatura non porta da nessuna parte. Ok, abbiamo visto Descender, erano X volumi. Questo è solo il primo, non è che possiamo giudicare una storia dal primo. In questo volume vengono presentati dei personaggi e viene un po' descritto quello che è successo dopo Descender. Perché questo è il seguito di Descender. Esattamente. È il seguito di Descender ed è anche una storia in cui, c'era stata già detto alla fine di Descender, non c'è tanta tecnologia, c'è molta magia. Si è proprio cambiato il tono. L'altra cosa che fa questo volume è, oltre a presentare i nuovi personaggi, è ripresentare i vecchi personaggi. I vecchi personaggi che arrivano da Descender. Perché qui, per quanto la sensazione del lettore, sia ogni tanto di sentire tanto tempo fa in una galassia lontana, lontana, perché ci sono tantissimi elementi che vengono presi, se non proprio da Star Wars. Ogni tanto qualche citazione ci vuole. Poi Star Wars, come dico sempre, non è fantascienza, è un fantasy e quindi in realtà siamo lì dentro. Quindi, sebbene appunto ci sia questo motivetto che intanto mi salta, mi suona le orecchie, in realtà non è passato così tanto tempo. Perché il protagonista umano di Descender, cioè quello che aveva avuto Tim come fratellino, l'Android del team, c'è ancora. Adesso è papà. E anche qui, come abbiamo detto con Middle West, anche con Middle West, c'è un rapporto genitoriale padre-figlia, questa volta non figlio. Un po' meno, diciamo, devastante di quello di Middle West, nel senso che è un rapporto più normale tra padre e figlia. Per normale bisogna comunque stabilire dei limiti. Diciamo un normale con limiti molto vasti. Diciamo che c'è meno conflitto tra padre e figlia. E quindi quello che si nota subito dal primo volume è quest'enorme capacità di Jeff Lemire di creare un universo di mondi, che è una cosa che si era già notata in Descender, aiutato molto dal tratto molto particolare di Nguyen, che era il duo che c'era anche in Descender. E comunque è sempre un livello di senso. Sì, incredibile. Quindi acquerelli molto comunque onirici nel loro modo di svilupparsi e voglio dire, io non sono troppo, ho letto un po' di tutto su questo fumetto, anche ferocissime critiche. Ecco, io sinceramente, sulle ferocissime, sarà che io ho adorato Descender in tutti i suoi volumi. Ascender, sinceramente ero preoccupato dall'uscita di Ascender, credevo che, temevo che il tono fosse decisamente diverso. Invece l'ho trovato molto equilibrato, molto equilibrato sia nell'uso non smodato, diciamo, di riferimenti a Descender, ce ne sono, quindi sicuramente un lettore che cominciasse ad Ascender si perderebbe qualcosa. Ecco, nel momento in cui uno si rende conto di come è ambientato rispetto a Descender, che vengono recuperati man mano alcuni personaggi che dici, e questo chissà che fine è fatto, e salta fuori. Saltano fuori tutti quasi, tranne forse il principale. Sì, saltano per ora, chissà chi può dirlo. No, nel senso del volume. Certo. Qual è un'altra critica che si è vista molto su internet? È che il taglio fosse molto, molto da serial. Quindi ci sono, ecco state vedendo una splash page non indifferente di Inguiel, ci sono, è un taglio volutamente in linea con i tempi, cioè c'è una prima parte in cui vengono presentate delle scene dei cattivi, diciamo, del mondo di coloro che sono appunto gli avversari, e c'è poi il titolo e poi parte la storia dei personaggi, diciamo, i buoni. Questa dicotomia bene e male, ovviamente, è stata un'altra delle cose che è stata detta, ah, vedete, sono quelle cose che sono state scopiazzate. Beh, quasi tutta la letteratura mondiale ha la dicotomia bene e male. È difficile trovare qualcosa che non sia su questa linea. Alcune cose sono comunque parte della famosa regola per cui esistono poi cinque o sei storie e alla fine rientrano tutti all'interno di queste cinque o sei storie. Se vogliamo sindacare tutte le storie sono fatte così. Quindi, tralasciando queste critiche che secondo me non hanno molto senso su questo volume qui, quantomeno possiamo criticarle tantissime a questo punto, se vi è piaciuto The Schenner non ci sono dubbi. Questo vi piacerà. Vi piacerà perché è la continuazione della storia. Ripeto, qua troverete tantissimi dei personaggi della precedente storia. troverete un linguaggio, è vero, molto cinematografico, ma io non ne farei un difetto. Soprattutto il rischio di essere molto didascalici oggi è molto alto. Quindi i tempi sono molto veloci e ovviamente il linguaggio anche in un media come il fumetto si è modificato. Quindi non lo vedo necessariamente come un difetto. La qualità è sempre molto alta. Stiamo sempre parlando di un volume della BAO. La BAO ci tiene a fare volumi belli, quindi comunque anche la qualità. Soprattutto il formato è identico a quello di The Schenner. Quindi starà molto bene di fianco in libreria. Esattamente. E siamo sempre sui 18 euro. 18 euro, sì. Una cosa che, parere mio ovviamente, ho trovato interessante è, si sapeva che ci sarebbe stato il passaggio da fantascienza, tecnologia, a fantasy magia. Fantasy, sì. Questo passaggio un po' mi preoccupava, però mi piace come è stato affrontato. Per cui in realtà, come dicono i giovani, ci sta. Sì, ci sta. Ecco, io forse l'unica cosa che ho trovato complessa da gestire, ma è stata gestita, è stato che in un arco di tempo così breve la tecnologia sembra scomparsa completamente. Noi sappiamo che i mietitori avevano di fatto distrutto, effettuato un genocidio vero e proprio, avevano distrutto pianeti interi. Qui c'è un espediente in cui viene spiegato come mai la tecnologia è scomparsa. In realtà la tecnologia non è scomparsa. Prima avete visto passare uno dei personaggi di Deschender, che era il cagnolino robotico del protagonista. Quello che faceva fra, fra, fra. E dopo un po' si spiegava, ma è quello che abbia al contrario. Ah, Arf, Arf, Arf. E quindi qui c'è la tecnologia, c'è un motivo per cui è sparita. Lo scoprirete leggendolo e vi mette il cuore in pace sul fatto che in un così breve arco temporale effettivamente ci sia stato un cambio così forte. Detto questo, andate in fumetteria a Scender, ormai disponibile, è uscito credo poco prima del lockdown, quindi lo troverete sicuramente. Buona lettura. Ci vediamo a questo punto, direi a settembre. Questa è l'ultima trasmissione di Mercury Comics prima della pausa estiva. Sapete che, se siete degli amanti dei fumetti, Luca ci sta dicendo delle cose. Avremo delle sorprese probabilmente a settembre. Ve le diremo a settembre, però. Noi ci stiamo attrezzando. Sì, esattamente. Quindi, un ringraziamento a Mushy alla regia, Fulvio alla console, Jobin di qua, e un saluto da parte mia. Ci vediamo a settembre. Grazie a tutti e leggete tanti fumetti d'estate. Ciao. A presto. Ciao.